Ciao amici! La tiroide è un organo importantissimo per il metabolismo. Se la sua attività è ridotta si parla di ipotiroidismo. I sintomi sono poca energia e stanchezza cronica, fatica a concentrarsi, depressione. Per le donne anche irregolarità del ciclo. Ma anche il dimagrimento ne risente. Infatti gli ormoni tiroidei regolano il potere brucia grassi del corpo e la capacità di bruciare le calorie. Ecco perché in caso di disturbi alla tiroide è molto facile ingrassare e molto difficile dimagrire. Oggi vediamo 7 cibi amici della tiroide che aiutano a mantenerla in salute. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Salmone. Il salmone è ricco di acidi grassi omega 3 e magnesio, amici del sistema ormonale. 2. Germogli. In particolare quelli di semi di lenticchie contengono minerali e vitamine protettivi della tiroide. Per sapere come mangiare e cucinare i germogli vi consiglio il mio libro Germogli. Link in descrizione. 3. Noci brasiliane. Contengono selenio, zinco e ferro, minerali utili per produrre gli ormoni tiroidei. 4. Crauti. Cibo enzimatico. Aiutano a regolare la flora batterica intestinale che secondo gli studi favorisce il funzionamento della tiroide. 5. Kefir. Anche il kefir è una bevanda enzimatica che aiuta la flora batterica intestinale. Potete prepararlo seguendo la ricetta di questo mio video. 6. Carne di tacchino. Il tacchino, per chi non è vegano o vegetariano, è una carne magra ricca di vitamina B3 o niacina che facilita il metabolismo cellulare dello iodio. 7. Trota. Come il salmone, questo pesce nostrano contiene zinco, ferro e selenio necessari al corpo per produrre gli ormoni della tiroide. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Iscriviti anche alla mia pagina facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendi e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. Se vuoi approfondire questi argomenti in descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri e the book. Mangia sano e vivi meglio!